Amici del Simposo della Consapevolezza, oggi è 4 gennaio e sono qui a Livorno sul lungomare ho approfittato di questo bello scenario per mandarvi il mio video per gli auguri per un 2015 spettacolare ma non solo, in questo video voglio darvi un consiglio che mi è arrivato come messaggio da partione dei miei figli il mio più grande, Samuele, di 12 anni e in più darvi un'anteprima speciale sull'arrivo del simposio online del 2015 quindi per prima cosa il messaggio, il messaggio è quello di poter arrivare veramente a quello, a ottenere ciò che volete e lui semplicemente ci ha detto, l'ha detto a mio marito e poi riportato anche a me che non bisogna tanto chiedere all'universo per ottenere ciò che vogliamo, ma bisogna veramente crederci, credere che quello che vogliamo ci arriva, molto semplicemente quindi questo è il mio consiglio riportato a voi per questo 2015, credete in quello che volete perché arriverà, molto semplicemente e seconda cosa, ecco l'anteprima per voi per questo simposio 2015, vi do le date, segnatevele bene perché poi mano a mano vi darò i contenuti, saprete chi ci sarà, saprete come verrà impostato questo nuovo simposio le date sono dal 2 al 27 marzo, non pensate che sia un periodo più breve del solito perché vedrete che sarà davvero intenso sto organizzando per voi qualcosa di super speciale, vi abbraccio, vi ringrazio ancora di tutto il sostegno che vi date e so che apprezzerete tantissimo quello che sta per arrivare, un bacio grande e ancora un 2015 spettacolare, a presto!